Bentornati, nell'ultimo video abbiamo visto come si crea l'effetto goldfinger o effetto pelle dorata in Adobe Lightroom Beh, oggi vi facciamo vedere come si fa la stessa cosa all'interno di Photoshop Vedete che noi qui l'abbiamo già fatto Abbiamo utilizzato un livello di regolazione e bilanciamento colore Come potete vedere abbiamo già creato una maschera che copre le aree dell'incarnato Ora andiamo a vedere le impostazioni Come impostazioni abbiamo agito principalmente sulla temperatura Quindi l'impostazione più importante è sicuramente la temperatura dei mezzi toni Vedete che qui abbiamo dato un meno 47% e poi un più 13% sui rossi Abbiamo fatto più o meno la stessa cosa anche sulle ombre e sulle luci Ma come potete vedere con un'intensità nettamente inferiore Bene, un piccolo bonus Come potete vedere la nostra pistola qui ha il bollino di riconoscimento di colore rosso A questo punto noi apriamo un livello di regolazione di bianco e nero E vedete che l'intera immagine diventa in bianco e nero Adesso noi selezioniamo l'anteprima della nostra maschera e premiamo Comand D Quindi invertiamo la maschera Andiamo poi a prendere un pennello bianco e pitturiamo soltanto sull'area rossa Dopodiché con un doppio clic sull'icona del nostro livello di regolazione Apriamo questo pannello che ci permette di gestire i colori Se noi chiudiamo il canale dei rossi Voilà, il buco della pistola Grazie a tutti Grazie a tutti